Tronchettine 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 Chi sei? Sei? Aspetta che vengo su Stiamo usando la bandiera tipo Unica con lì Unico 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 Gli ultimi I Dib Anchietà Direzione 10 Non lo aspetivo bene, bene allora la 10 in tecno va qui bene allora la IS0 il MHS riprende per la IS0 GRB con enorme piacere devo dire che si è fatto il salto di qualità si è fatto il salto di qualità diciamo che abbiamo per merito di Roberto e Michele abbiamo posizionato la torna 55 elementi in una posizione molto molto più libera diciamo dagli ostacoli purtroppo c'erano degli alberi che prima non davano la continuità del segnale adesso dopo 3-4 ore di lavori siamo riusciti oltre Roberto a cambiare completamente tutto quanto i connettori hanno fatto le saldature come si doveva e poi l'antenna puntata e a campo libero verso il monte 7-9 tutto per merito di Roby ripeto e Michele bene io sono curioso di vedermi purtroppo mi vedo solo in diretta la tv come vedi non posso fare neanche un zoom sul televisore non posso fare neanche un